Buonasera amici della Futsal TV, siamo collegati questa sera alla futura settima giornata, siamo qui in collegamento con Manuel Etegon e Marcedu, si sfideranno S di Futura contro l'Olimpia 2012, adesso avanza Cavallin, la conclusione, il palo di Cavallin, può ripartire il Futura velocemente, il passaggio centrale, attenzione il tiro e il palo di nuovo, il palo di nuovo da parte di Torchia stavolta, sempre Alunzi, Torchia, palla al piede, passaggio, Alunzi con il tacco, con il tacco, porta avanti la Futura, centrale trova Cavallin, Cavallin punta l'uomo, lo supera, Cavallin e la rete incrocia bene con il destro, per l'Olimpia che adesso prova a dimezzare lo svantaggio, allora Callori la conclusione, la respinta da parte di De Bellis, adesso Torchia la gioca benissimo sulla destra per Alunzi, rientra su destra Alunzi, fa secolo, cadaglia Alunzi, ci schia con il pallone, poi rimedia Callori con il piede, Cavallin, centrale per Torchia, si gira Torchia, la conclusione ancora, Callori chiude bene la difesa dell'Olimpia, adesso può partire in contropiede con Callori, 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 il tiro e il palo di Callori, prova a rientrare Callori, ritmi però molto lenti, ancora Callori, poi ci prova, deviazione da parte di Cavallin, calcio d'angolo, chiude bene Gervasi, ancora Gervasi, Callori recupera il pallone, Callori davanti a De Bellis, si fa neutralizzare, attenzione allora il passaggio per Ceccarelli, lo scambio è qui, chiuso all'ultimo, ancora Cavallin e si salva, ancora Callori, può andare in superiorità numerica qui da solo, sull'altra parte ancora Alunzi, passaggio dentro per Cavallin, il 3-0 del Futura, il 3-0 del Futura, passaggio centrale ancora per Alunzi, attenzione ancora il Futura con Ceccarelli, passaggio dentro, la conclusione ancora bravissimo, Alunzi, Mastro Domenico in area di ricorre, Mastro Domenico è da solo e qui, ancora con Alunzi, Alunzi, rientra su destra Alunzi, Alunzi, la conclusione di Alunzi è con i piedi, si oppone Callori, pallone che va a sbattere contro Alunzi e può recuperare la sfera, adesso il passaggio smarca Arcesi in area di ricorre, Arcesi si libera di Callori e va sul 4-0 il Futura, recupera il pallone regolarmente, allora ancora Mastro Domenico, le finte, passaggio per Cetrone, e poi salva sulla linea, Venditti, allora contropiede da parte per il Futura, Rapone serve sulla destra, Venditti, Venditti, il tiro e la rete, 5-0 Futura, Venditti, serve Rapone, Rapone sulla sinistra ancora Venditti, il 3-0 Venditti, Venditti, respinge bene Callori, Cavallin rientra sul destro, Cavallin, 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 serve Venditti, la conclusione, rete, 6-0 Venditti, in atto anticipo poi Cavallin, serve Rapone benissimo, allora Cavallin sulla destra, centrale, Venditti, a porta vuota, sbaglio, allora contropiede per il Futura con Cavallin, Cavallin, le finte di Cavallin, Cavallin serve Gervasi, 7-0 Futura, serve con un tocco sotto Rapone, esce poi Callori ancora, allora può sfogliare il contropiede direttamente dal portiere, allora Callori, rientra su Sissu, Callori, Callori, dentro l'area di rigore, il 6-1, il 7-1 da parte di Callori, può andare in possesso di palla ancora Cavallin, su salta netto Cavallin, ancora con il destro, tutto con il destro, ed è un gol fenomenale da parte di Cavallin, di seconda, la conclusione di Locatelli, respinta da De Bellis, scambia Corapone, chiude Cedrone, allora ancora l'Olimpia, con Callori e salva tutto, De Bellis su Mastro Domenico, si fa neutralizzare da Callori, poi ancora la conclusione, la rete, la rete di Arcese, molto articolata tra passaggio, ancora Callori, passaggio centrale per Raso, e la rete di Raso, si toglie questa soddisfazione, il giovane calciatore dell'Olimpia, allora De Bellis con le mani, ancora per Ceccarelli, che ha grande aggancio di Ceccarelli, Ceccarelli da solo davanti a Callori, Ceccarelli, ancora Mastro Domenico, Arcese, Arcese, Arcese dentro per Cavallin, incredibile, scambio con Mastro Domenico, sale sulla destra, Cedrone, ancora Mastro Domenico, con la punta, respinge De Bellis, venditti, venditti, serve Cavallin, con la punta, ancora Callori, benissimo, al cato duro, qui venditti, da parte di Raso, si può giocare però, allora ancora Callori, fa fuori a Nonzi, Callori, 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 la rete di Callori, subito venditti, a rigore il pallone, allora 3 contro 1, venditti, venditti, sulla destra, venditti, la conclusione, sale, palla a piede, Cavallin, solo Cavallin, nel lato di rigore, il tiro ancora, si oppone Callori, sulla destra Torchia, Torchia, solissimo Torchia, 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 e poi Rapone la mette dentro per il 12 a 4, pallone dentro di Rapone, Cavallin, chiude lo specchio bene Callori, sbaglia tutto, e qui conclude la partita per quest'oggi, brutta sconfitta per l'Olimpia, mentre per il futuro, si detta legge in casa, e per quest'oggi è tutto amici del mondo futsal, chiudiamo qui il collegamento e appuntamento alla prossima giornata.